Gli istituti superiori della provincia di Pescara adotteranno la settimana corta in aula dunque dal lunedì al venerdì, accolta praticamente in toto la proposta avanzata nel corso di quest'estate dal presidente Ottavio De Martinis che con un'apposita lettera aveva invitato i dirigenti scolastici a prendere in considerazione questa opzione. Per due motivi, uno era per il risparmio energetico che questa comporterebbe ma non solo questo anche da un punto di vista dell'inquilimento atmosferico ridurre di una giornata alla settimana scolastica risulterebbe insomma essere importanti e meno impattanti da questo punto di vista. Devo dire che c'è stata una grande risposta da parte dei dirigenti scolastici tant'è che quasi la totalità delle scuole hanno aderito e quindi porteranno avanti l'orario con una settimana corta. C'è il solo istituto di Tito Acerbo che non ha aderito ma non perché non ritenesse insomma giusta la soluzione ma semplicemente perché aveva preso degli impegni già con gli studenti e con i professori e quindi non ha ritenuto di dover tornare indietro. C'è grande soddisfazione perché insomma è una soluzione che potrà appunto portare ragionamento a tutto il territorio. Incontri con la tua stanno consentendo di calibrare al meglio gli orari delle corse a quelli di entrate e uscita degli studenti dagli istituti. In via di definizione secondo De Martinis anche la dislocazione di studenti in eccesso che si sono iscritti in due istituti il classico e il Volta di Pescara. In un caso abbiamo già risolto perché il liceo classico che aveva avuto bisogno di dieci ore in più è stata sistemata in un istituto gestito dalle suore di proprietà delle suore e invece per quello che riguarda il Volta stiamo stiamo trovando una soluzione provvisoria perché anche questa è risolvibile nella misura in cui nel momento in cui i ragazzi del Marconi entreranno nel nuovo nella nuovo edificio io penso nel giro di un mese e mezzo o due i ragazzi del Volta si trasferiranno al Fuxas che è un istituto invece che abbiamo preso ancora in affitto per un anno. Diciamo che le componenti ci sono a parte queste piccole difficoltà tutte le componenti sono state trattate e tutte le problematiche sono state risolte.